Nel 1986 io mi invento il gambero rosso. Inizia con un pezzo politico, Carlo Petrini, che dice non siamo dei mangioni solo. Era un riserto di otto pagine del manifesto. Il manifesto quel giorno, che esce 16 dicembre, vende il 30% in più. Questa è la prima parte, perché dopo diventa un supplemento a colori. Eccolo qua. Succede questo fenomeno divertentissimo che io ho visto in persona. Arriva quello in edicola, prende il manifesto, sfila schifato il gambero rosso e va via, puro e puro. E c'è quello che arriva, prende, tira fuori il gambero rosso, mette il manifesto nel cestino e si prende il gambero rosso, perché lui è di destra, ma è un gourmet. Abbiamo dato dignità a tutti quelli che erano appassionati di cibo e di vino e per il moralismo cattocomunista esistente in Italia, se ne vergognavano e lo nascondevano. e lo, questo era quello che erano. Grazie.